Ciao e con un po' per un altro video, un video vlog da Criccio, cosa posso dire? Stamattina sarei voluta andare in biblioteca, però col fatto che piove, andarci in bicicletta con l'ombrello, so già che mi faccio male e di sicuro distruggo l'ombrello, perché a me è già successo di fare una cosa del genere. Si sarei andata anche a piedi la prima fermata dell'autobus, però la pista ciclopedonale qui vicino a casa mia e quell'altra per andare alla fermata dell'autobus sono piene di po' sangra e grande quanto un palazzo, ma non così profondo, e il rischio di infradiciarmi fino a metà polpaccio. E i pantaloni sinceramente, andare in giro con i pantaloni mezzi bagnati per prendere dei libri non è che mi piacevi di tanto. E quindi è fatto, tra virgolette domani, visto che ho degli altri giri da fare, per andarli a prendere. Le prenoto in biblioteca perché al momento, non lavorando più da signora, dal 27 di agosto sono un po' quei pochi euro che riesco a guadagnarmi qua e là, non li spendo al momento per i libri, ma per qualcosa di più utile. Poi, siamo al 13 di novembre, nel 2017 già sapevo che sarebbero venuti i Ganserose in Italia perché hanno dato la data il 10 di novembre 2017. Al 18 di novembre, sempre di quel anno 2017, avevo già preso il biglietto e quindi quest'anno non si sa se verranno o meno in Italia perché non ha ancora uscito niente e non so fra quando daranno l'annuncio e sempre se lo danno l'annuncio. Però so già che andrò, vabbè, al concerto di Grindai, già preso il biglietto. Mi interesserebbe anche andare a vedere per la prima volta Vasco Rossi, che verrà qui a Imola. E sto aspettando che esca la data ufficiale e l'uscita dei biglietti di Vasco Rossi. Sperando che non coincida con la data dei Ganserose, sempre se danno l'annuncio che si ritornano in Tura. Mi è un po' dispiaciuto perché mi dispiace un po' che quest'anno le Spice Girls non ripartano con il Tura. In quanto l'anno scorso è successo che lo stesso giorno che sono andata a vedere Slash, c'erano le Spice Girls a Bologna. Quindi me le sono letteralmente persa e mi ha molto dispiaciuto. Quest'anno c'è Avril Lavigne a Milano, però non la riesco ad andare a vedere perché sinceramente, è un posto che non ci sono mai andata da parte di Milano e quindi non so di preciso dove sia il posto. E non mi avvardo andare a fare una cosa del genere perché, come posso dire, se sono in compagnia di qualcuno è più facile che mi riesca a orientare e riesca a essere più tranquilla. Però Milano è enormi e quindi sinceramente non mi piace la cosa. Mi sarebbe piaciuto andarlo a vedere perché la prima data, che era il 16 marzo, Alfa Brick è andata tutto sold out e l'hanno dovuta spostare a Lorenzinna. Alfa Brick di Milano ci sarei riuscita tranquillamente a arrivarci perché avrei preso l'hotel vicino e quindi più o meno la strada la sapevo. Però andare a Lorenzinna di Milano, che non ci sono mai andata, faccio più fatica, quindi non ho altro palo di via di dove sia il posto di preciso e quindi mi perderei di sicuro. Ne stanno facendo un'altra data, il 15 di marzo. Non ci vado perché è sempre lo stesso posto e quindi a malincuore ci ho dovuto, tra virgolette, metterla una pietra sopra. Mi dispiace perché mi piace molto di più Avrilavigna che Vasco Rossi. Però col fatto che Vasco Rossi è qui a Imola è più facile che vadi lì a vederlo, a vederlo più che altro. Poi, sì, volevo farvi anche un video dove parlavo dei Twix Bates, che spero di riuscire a farvi vedere la foto di quello che ho appena nominato, che sono i Twix in versione mignonna. Silvia, avevo pensato anche di fare il viaggio di otto giorni, sempre qui in Italia, però col fatto che, come ho già detto, non lavoro dal 27 di agosto, non so come riuscirei a, tra virgolette, pagarmi tutto il viaggio, in quanto non so fra quanto riprenderò a lavorare dalla signora e sempre se riprenderò a lavorare dalla signora, quindi, ma comunque spererei di riuscire a trovare qualcosa di più stabile, magari anche di tempo determinato per qualche mese e mettermi via da parte un po' di soldi, magari per qualcos'altro. Comunque ho in mente di fare altri due concerti, se ce la faccio, o a massimo un altro sicuro. Adesso vediamo come va la giostra. Mi do tempo, tra virgolette, fino alla fine di dicembre. Poi, vediamo. Spero, tra virgolette, di riuscire a registrare anche un altro video dove monto delle bamboline di riku, le brick do, do brick heads. Poi metterò anche la foto di quello, di questo qui, che sono delle specie di bambu, statuine fatti con riku. Con questo è tutto, alla prossima. Ciao! Ciao!